Varcare una soglia, entrare in una città senza tempo, compiere un gesto ordinario e scoprire un mondo straordinario, per ricostruire un'epoca, coglierne l'anima, portare alla luce le vite di persone celebri e non, lasciarsi ammaliare dalle sculture, perdersi e farsi guidare da chi ha conosciuto o amato gli extraterreni, persone che forse non sono mai andate via. Passeggiate nei prati dell'eternità, una guida che si legge come un romanzo, un viaggio in compagnia di Virgili eccellenti, un invito alla pratica di un turismo insolito e suggestivo. Le passeggiate nei prati dell'eternità regalano emozioni autentiche, regalano sostanza alla vita.